E bentornati sul canale Ghost Rider. Volevo giusto dire altre due paroline riguardo la serie The Punisher, quella di Netflix del 2017 con protagonista il bravissimo John Brunthal, nella parte di Frank Castle, e di cui è piaciuta tantissimo anche l'attrice che fa Karen Page, l'ex segretaria fidanzata di Daredevil, qui interpretata benissimo da questa Deborah Ann Wall, che ha creato tra l'altro una bellissima intesa con il personaggio di Frank Castle, veramente, anzi, si è capito ovviamente che c'è del tenero tra i due, quindi devo dire veramente un'altra piacevole sorpresa, oltre a tutta la serie fatta veramente alla grandissima, veramente la Netflix, in quegli anni ha fatto un lavoro egregio con The Punisher, con Daredevil, con i Defenders, Luke Cage, insomma veramente roba egregia che ci credo che la Marvel ha voluto assorbirle per non dover ripetere le stesse storie che la Netflix già aveva fatto alla grandissima, cioè, assolutamente, ecco perché Daredevil ritornerà in una delle prossime fasi della Marvel con lo stesso cast, Daredevil Born Again si intitolerà, facendo riferimento alla famosa run, quella di Frank Miller, ovvio, però ci sarà lo stesso cast, quindi si presume che prima o poi, quando arriverà il punitore nell'MCU a livello ufficiale, ci dovrebbe essere di nuovo John Berntal, che è finora l'unico che mi è piaciuto, come mi era piaciuto, il Ray Stevenson, quello che si è visto nel film del 2008, Punisher Warzone, zona di guerra che per me resta dei film sul punitore il più bello, veramente fatto benissimo, veloce, splatterazione, si perde in poche chiacchiere, e poi Ray Stevenson fu proprio bravissimo nella parte, tra l'altro anche in questa serie ti troviamo il personaggio di Microchip, che pure si era visto nel film del 2008, anche qui ti troviamo il personaggio di Mosaico, che pure si era visto nel film del 2008, però devo dire, bello sia il film che questa serie, il film ti offre in quei 100 minuti tutto il concentrato, il meglio, la serie invece ha questi tempi più lunghi, più dilatati, con questo ampio respiro in cui può spiegare meglio pure le varie dinamiche, i vari intrecci, e patapim e patapam, quindi alla fine salvo tutto e due, assolutamente, sia il film del 2008 che questa serie, che speriamo potremo ritrovare lo stesso cast, quindi lo stesso John Berntal, la stessa Deborah Ann Wall, assolutamente, e quindi questo, ci vediamo presto dannati, saluti dal punitore.